Sono nato così. I colori li ho immaginati con gli odori. Il mondo l'ho visto toccandolo. Ciao mamma, ciao Angela. Ora quello di cui ho bisogno sono occhi al fatto di un cane. Tu? Pronto? Ciao Luca, come stai? Andri? Ogni anno in Italia vengono abbandonati più di 50.000 cani e la maggior parte di loro muore nei canili perché considerati di seconda scelta. Loro aspettano solo di avere un padrone che li ami di nuovo. E io sono in una lista d'attesa lungo anni per un cane guida. Che guance calde, non è che la febbre? Noi di Acqua vogliamo mettere fine a questo controsenso e fare incontrare questi due mondi. Dog Eyes è il primo programma di educazione cinofila che trasforma i cani abbandonati in guide per ciechi. Un approccio che la selezione del cane la fa solo dopo aver conosciuto il non vedente e in base al carattere di entrambi. Vieni qua! Vieni qua, vieni qua. Andiamo al mare. C'è la sabbia morbida. Terra! Ma soprattutto è un percorso da fare insieme fin dal primo momento e nel luogo dove vivranno. Questo è Dog Eyes. Noi ci crediamo. Facciamolo succedere insieme. Con il tuo contributo i non vedenti potranno avere una guida e i cani abbandonati un padrone che li ami. Unisciti al progetto Dog Eyes di Acqua. Dono.